Si è concluso nelle isole Egadi il Capone, un pesce stagionale tutto da scoprire. Un'iniziativa che ha valorizzato i sapori della cucina tipica locale, con piatti preparati secondo le ricette tradizionali dell'isola di Marettimo e di Levanso. Ed ancora percorsi didattici, attività ludiche e narrative, musica della cultura siciliana. L'obiettivo dell'evento è stato quello di sensibilizzare la popolazione al consumo del prodotto ittico locale, in particolare del Capone, nel rispetto della sua stagionalità e al consumo intelligente, nella consapevolezza che mangiare pesce fa bene e lo si può fare ad un prezzo contenuto, specialmente in alcuni periodi dell'anno, promuovendo la tradizione culinaria del territorio costiero attraverso ricette ad hoc. Quasi 100 kg di pesce sono stati offerti per permettere a tutti di degustare il magnifico prodotto del mare nostrano, preparato in vari modi dai ristoratori e dalla gente del luogo. Dalla caponata con uva zibibbo, alle zuppe, alla siciliana ed arrostito. Un momento davvero importante per l'economia e gadina, da sempre fondata sul mare e sulla pesca. Una festa in due scenari magici, come Marettimo e Levanso con il buon pesce protagonista. Era importante realizzare qua a Marettimo una manifestazione, tra virgolette, sostenibile, una manifestazione che poteva unire sia la valorizzazione del pescato locale, del pescato povero che è il capone tradizionale, sia un aspetto di carattere turistico per dare l'opportunità ai tanti visitatori che anche in questi giorni frequentano la nostra isola di avere qualcosa in più oltre al mare, oltre ai nostri paesaggi, oltre a tutto quello a cui sono abituati. Abbiamo unito la gastronomia, le ricette tradizionali, i pescatori, i residenti, i tanti ristoranti che hanno collaborato all'iniziativa. Credo che era estremamente importante, ed è una di quelle cose che credo che si debba ripetere. Non è il grande evento, ma è una di quelle piccole manifestazioni che servono ad allungare un po' la stagione ed allungarla in qualità soprattutto di quello che si offre. Durante questa manifestazione molto importante per la valorizzazione del capone, si è svolta un'attività ludico-dilettevole per i più piccoli, poiché anche i bambini devono conoscere l'importanza di questo pesce azzurro. I bambini hanno partecipato a un'attività prima informativa e formativa sul capone e sul pesce azzurro e successivamente hanno partecipato a dei giochi formativi sul capone e anche alla valorizzazione del pesce azzurro stesso.